Non riconosco questo mondo. Ora Vampiri e Likaim sono la loro preda. Questa è una nuova guerra. Un nuovo mondo. Qualcos'altro è fuggito. È più potente di tutti noi. Le daranno una caccia spietata. Una nuova razza. Lei è l'arma per vincere questa guerra. Kate Beckinsale. Underworld. Il risveglio. In 3D. Dal 20 gennaio al cinema.